Per un semplice motivo, perché credo che questa squadra abbia le possibilità per salvarsi. È un organico importante, però questi giocatori importanti devono riuscire a tirar fuori quello che hanno dimostrato in passato. È vero che hanno avuto anche dei problemi fisici, ci sono diversi giocatori che non sono in condizione, però cercheremo in breve tempo di rimetterli nella condizione più ideale possibile. Il tempo purtroppo non è tanto, però cercheremo di farlo. E come mai allora, secondo lei, finora questa squadra non ha fatto bene solo questi problemi fisici? E poi le volevo chiedere anche qual era la ricetta giusta per cercare di raggiungere la salvezza? La ricetta giusta è che questi giocatori credano in quello che hanno fatto fino a poco tempo fa, perché hanno dimostrato in tutti i campi d'Italia di essere giocatori importanti e di fare la differenza in alcuni momenti. Si riferisce all'anno scorso? Certo, all'anno scorso, due anni fa, perciò debbono farlo anche qua a Salerno. Per farlo però devono essere messe in condizione di poterlo fare, come molti hanno dei problemi fisici e sono in ritardo anche a livello di condizione proprio per questo motivo. Cerca di fare meno casini possibile. Questo significa che se non ti rendi conto, se non vedi che alcuni giocatori possono esprimere quello che tu vuoi a livello di modulo, è chiaro che devi sistemare la cosa in un'altra maniera. Perciò questa squadra deve avere delle certezze. Le certezze sono che si partirà da quello che è stata la passata stagione. Quindi si partirà dal 4-4-2 che ha vinto il campionato? Probabilmente sì. Ci sono pochi giorni, 4 per una sfida importantissima contro i Rimini. Come preparerà questa partita? Ho detto prima, bisogna essere consapevoli delle proprie forze. Questa forza, questa squadra ce l'ha. È chiaro che deve tirarla fuori perché non si può passare da situazioni come quella di Brescia per poi passare a quella con Treviso o altre partite. Un aspetto mentale forse? È chiaro che c'è anche un aspetto mentale che deve essere, soprattutto deve essere curato perché prestazioni come quelle di Brescia lasciano il segno all'interno. Tu vedi una squadra che si muove bene in campo e allora bisogna partire da quella situazione. Per questa decisione, cioè a cambiare di nuovo allenatore e a scegliere Brini? Ma è una decisione che è maturata dopo che ho parlato con i tifosi. Poi sono stato nello spogliatore a parlare con la squadra. Poi ho parlato con il mister Castori, con Fabiani. E quindi ho maturato questa decisione che credo in quel momento particolare doveva essere presa perché ancora i margini ci sono tutti per una salvezza tranquilla e non potevamo aspettare oltre perché se no la situazione sarebbe potuta diventare meno risolvibile. Cosa si aspetta ora da Brini? Ovviamente al di là della salvezza, speriamo. Ma mi aspetto che innanzitutto faccia quello che ha detto in conferenza stampa, definito gli allenatori come gli uomini che devono procurare il meno dei danni possibili, il che significa impiegare i giocatori nel loro ruolo. Si aspettava una stagione così, piena di tutti questi problemi? Non me l'aspettavo, non me l'auguravo, però nei momenti di difficoltà credo che si veda anche la forza di una società e di una dirigenza. È importante affrontare questi momenti, affrontarli con l'aiuto dei nostri tifosi ai quali chiedo sempre di sostenerci e di avere pazienza. Brini è il quarto allenatore di quest'anno. Il mercato di gennaio sono state fatte numerose operazioni, è cambiato un po' tutto, è rimasto come filo conduttore però il direttore Fabiani, ha mai pensato di cambiare anche questo tassello? Ma devo dire che il direttore Fabiani è colui che ha consigliato il mercato di questa società, quindi è un operatore di mercato importante che ha anche in un certo senso costruito, contribuito a costruire la squadra, quindi è giusto che sia qua fino a fine campionato, alla fine tireremo le somme e parleremo di responsabilità. Venerdì c'è già una gara difficilissima, uno scontro diretto a Rimini, secondo lei quanto potrebbe essere la quota salvezza quest'anno? Ma credo che tra 49 e 50 punti potrebbe essere la quota salvezza, anche perché abbiamo tanti scontri diretti e mi auguro che questa quota si possa abbassare, però a quanto sembra quella dovrebbe essere il tetto da raggiungere per salvarci, quindi è importante in otto gare conseguire almeno quattro vittorie, speriamo di farcela tutta, cercheremo, incrociamo le dita ed andiamo avanti. Rimini, Albino, Leffe e Parma in questo trittico di partite, secondo lei quanti punti dovrebbero essere presi prima del doppio turno casalingo con Livorno e Vellino? Io mi augurerei di prenderne sette, poi la provvidenza magari ci dirà quanti ne possiamo prendere.